ciao a tutti benvenuti e bentornati in un nuovo video interattivo oggi andremo a vedere andremo a vedere una circostanza imprevedibile ricordo sempre che un interattivo per questo motivo dovete semplicemente prendere quello che risuona con la vostra situazione e con il vostro settore e lasciare andare il resto perché ciò che non risuona con voi risuonerà sicuramente per qualcun altro ricordo che il video è sempre valido dal momento in cui viene cliccato per la visione per il momento attuale abbiamo sempre le nostre due varianti variante 1 pietra arancione e variante 2 pietra rossa adesso andiamo a vedere cosa ci dicono le carte per la variante 1 per chi ha scelto la pietra arancione vediamo un po eccolo qui perfetto così l'andate a vedere vediamo un po cosa ci dicono le nostre carte allora c'è qualcuno in questa variante che ha bisogno di tirar fuori quello che ha dentro che sia di voi che sia qualcun altro di vostra conoscenza è un qualcuno che ha proprio bisogno di esprimere tutto quello che ha dentro di esprimere tutto quello che lo fa star male ha proprio la necessità in questo periodo di tirar fuori tutto il suo malessere tirar fuori tutto quello che non gli va bene questo sarà per lui come un dono come un regalo dopo questo diciamo esprimere buttar fuori il rospo chiamatelo come volete avrà una sensazione di liberazione e di serenità di tranquillità questo sarà appunto come un dono che riceve o un dono che farà a qualcuno potrebbe essere anche come dire venire fuori una verità e tirar fuori un segreto finalmente riuscire a dire ciò che si pensa su una situazione ciò che si pensa su un collega su una situazione familiare su un compagno un nemico che non vi va più bene possono essere tante le sfaccettature e tante i settori abbiamo anche la carta del sole la carta del sole la carta appunto della della positività in genere quando esce questa carta tutto diciamo prende un risvolto positivo e come dicevo prima c'è appunto la la carta del sole che ci fa capire che è arrivato in il momento di avere successo di riuscire a riuscire in tutto quello che si vuole trovare diciamo un equilibrio magari trovare una persona che sia e gradevole che sia consona ai nostri standard potrebbe anche essere una situazione di come dire che state con qualcuno che frequentate qualcuno che non vi va più bene e in questo momento in questa circostanza imprevedibile perché appunto sarà una circostanza che vi metterà nelle condizioni di tirar fuori quello che non vi va bene da questo momento in poi riuscirete appunto a vedere le cose sotto un altro punto di vista di nuovo il sole guardate due mazzi di carte diverse con tutte e due la stessa carta trionfo vittoria miglioramento schiarita indubbiamente per chi avrà la possibilità ma molti di voi avranno la possibilità si metteranno determinate condizioni in circolo si prospetteranno talmente delle condizioni fortuite che vi aiuteranno a mettere in atto questo vostro esprimere il malessere la carta ci dice ora possiedo la chiave per creare il mio destino non è non è possibile provare costantemente emozioni positive per qualcosa e non ottenerlo a seconda di come senti ti diremo se stai permettendo al tuo benessere naturale o meno quando avrei capito che il modo in cui senti indica il tuo livello di successo e resistenza avrai la chiave per creare ogni cosa che desideri questa è la carta che si associa benissimo a quello che abbiamo detto fino ad adesso cioè non è possibile provare sempre delle emozioni positive anche in una situazione che ci fa stare male non per forza dobbiamo per forza sentire il bene anche se fondamentalmente è una situazione negativa dobbiamo cercare di far star bene noi stessi e appunto se far star bene noi stessi è esprimere tutto il nostro malessere esprimere tutto quello che non va in questa circostanza lo andremo a fare e tutto cambierà visione tutto cambierà modo di essere visto modo di essere vissuto andiamo adesso a vedere la stesa con i miei oracoli vediamo un po gli ostacoli che ci sono in questo momento superamento di ostacoli riconciliazione freddezza e il litigio allora cosa mi dicono queste carte mi dicono che in questo momento c'è appunto questo ostacolo questo ostacolo nel superare questo momento il superamento di questo ostacolo ci porterà a una riconciliazione con qualcuno con qualcosa con noi stessi che appunto andrà a sciogliere questa forma di freddezza e questa forma di incomprensione di litigio che si è venuta a creare o con questa persona o con questa situazione in questo momento ci sono questi ostacoli che appunto verranno poi diciamo superati o disciolti nel momento in cui si presenterà questa questa situazione imprevedibile che vi porterà appunto a tirar fuori tutto il vostro malessere da lì ci sarà il superamento di questo momento di fermo e ci sarà appunto una riconciliazione dipende poi dalla vostra situazione con chi con che cosa o se con voi stessi e andrà a scemare questa forma di freddezza e di litigio interiore o con altre persone che vi portate dietro da molto tempo devo dire che le carte sono molto positive e tutto questo vi porterà appunto anche a una forma di indipendenza anche se è semplicemente interiore ma ha una forma di indipendenza da tutto e da tutti andiamo a vedere cosa ci dicono ancora le nostre carte vediamo un pochino appunto il tempo qua mi parla di tempo e da tanto tempo che voi vi tenete dentro queste cose ve li siete tenuti dentro per molto tempo però nel questo frangente vi siete rinforzati vi siete irrobustiti avete ottenuto dentro di voi la saggezza e la comprensione di tutto quello che non vi andava bene di tutto ciò che non vi va bene adesso dopo tanto tempo avete bisogno appunto di superare questo step per poter continuare una nuova visione ecco qui adesso è il momento di gettare la maschera gettare la maschera contro una situazione di gelosia magari che provate voi oppure che voi sentite che gli altri provano verso di voi ed è appunto il momento di gettare la maschera il superamento di questi ostacoli è dettato dal sciogliere tutti i nodi dal togliere questo velo che c'è davanti a voi oppure togliere questo velo che esiste in questa situazione che voi profondamente sentite e che vi fa stare male e semplicemente dopo questo chiarimento riuscirete a trovare questa riconciliazione questa riconciliazione che porterà molta leggerezza nella vostra vita e vi aiuterà a superare appunto questo ostacolo questo ostacolo che in questo momento sembra molto alto sembra insormontabile appunto come le montagne però vi posso dire che nulla è diciamo impossibile tutto si può superare e dato che avete proprio sentite questo bisogno di esprimere tutto il vostro malessere dopo di ciò vi sentirete molto più leggeri e molto più consapevoli che tutto quello che voi vedevate ai vostri occhi non era quello che sembrava ma era semplicemente un ostacolo una montagna appunto da scalare e superare abbiamo qui una freddezza che vi ha portato a essere vendicativi essere vendicativi ma la soluzione non è la vendetta la soluzione anche se voi la prendete come una forma di vendetta ma io non lo vedo come una vendetta vera e propria la freddezza che voi andrete a sciogliere oppure che magari andrete a sentire dopo che vi sarete tolto questo questo groppone dallo stomaco non è una forma di vendetta perché è come se per alcuni di voi quando si supererà questo momento si instaurerà in voi una forma di freddezza una forma di indifferenza che voi prenderete come una vendetta oppure molti che vi conoscono la prenderanno come una forma di vendetta invece no è la soluzione la soluzione per stare bene voi stessi è proprio scritto nel vostro destino che voi dovete tornare a essere più non dico più più puri ma dovete essere più più felici più sicuri di voi stessi dovete essere più più tranquilli più sereni è una situazione che voi vi portate appunto come dicevo da tanto tempo ve lo portate dietro e adesso siete arrivati un pochettino al limite avete bisogno appunto di pace di armonia questa carta diciamo è indice appunto di pace e di serenità e questa situazione imprevedibile che vi porterà a buttare fuori diciamo quello che non vi va bene cancellerà ogni stato negativo ed è una cosa che voi non potete non potete fermare perché appunto come dice la carta è scritto nel vostro destino e non è una cosa che voi potete andare a come dire non vi potete esimere è un qualcosa che arriverà quando meno ve lo aspettate però sarà come un input che vi dice il momento giusto adesso basta butta fuori tutto quello che ti fa star male bene ragazze e ragazzi della prima variante questa è la vostra stesa come sempre vi aspetto nei commenti per sapere se vi ritrovate nelle mie parole io vi ringrazio e passo alla variante 2 andiamo con la variante 2 per chi ha scelto la pietra rossa allora qui c'è qualcuno che sta aspettando che voi completiate una situazione che voi mettete il punto in una situazione che avete pregressa suppongo perché qua è come se voi state dipingendo il vostro quadro la vostra situazione il vostro momento e qui c'è qualcuno che sta aspettando come se questo personaggio fosse davanti a voi in attesa che voi lo dipingiate e in attesa che voi diciamo completiate il vostro quadro questo a voi fa molto ridere fa molto come dire felicità benevolenza oppure potrebbe essere un qualcosa che vi fa ridere nel senso che magari alcuni di voi pensano sì sì aspetta quanto vuoi tanto io il mio quadro non lo finirò mai come la famosa tela di Penelope vediamo un po' e qua abbiamo una chiamata cioè diciamo che questa chiamata che voi state per ricevere vi dirà ma questo quadro lo finisce o no prendi una decisione e voi giustamente siete in quella fase di risata di ridere come per dire sì sì ma aspetta perché ancora non sono pronta però fate attenzione perché a questa chiamata dovete rispondere subito perché se non rispondete nei tempi adeguati potreste anche pentirvene abbiamo la carta della protezione rifugio consolazione riparo e come se voi siete sicure che questa persona non si sposterà dal suo sgabbellino siete sicure che questa persona rimarrà sempre al suo posto questo vi fa sorridere perché non è la prima volta che questa persona vi dice di stringere i tempi e voi siete diciamo in una fase di di riparo di rifugio perché come se voi foste in una botte di ferro dove sapete che questa persona non può dire più di tanto non può fare più di tanto cosa accadrebbe se la fonte fosse nei miei panni fisici non è compito tuo fare accadere qualcosa il tuo compito consiste semplicemente nel determinare ciò che vuoi se fossimo nei tuoi panni fisici dirigeremmo la nostra attenzione verso l'allineamento con i desideri e le preferenze che abbiamo precedentemente lanciato percepiremmo in modo consapevole la nostra tendenza ad allinearci allora voi sapete benissimo che questo non è il momento per prendere questa decisione diciamo che voi sapete che sì è vero che voi dovete dipingere questo quadro ma non è compito vostro finirlo è come se voi sapete che ci deve essere un altro qualcuno un'altra qualcosa a dover determinare la fine di questa situazione dover determinare è come se sapete che questa decisione non è una decisione che dovete prendere voi ma è una decisione che deve prendere o qualcun altro oppure dovete aspettare appunto il maturarsi degli eventi affinché questo quadro venga finito ed è per questo che voi ridete ridete perché le pressioni che questo personaggio vi fa che questa situazione vi fa è una una pressione che a voi non dà tanto malessere non dà tanto fastidio perché sapete benissimo che non è cura vostra prendere questo tipo di decisione o reagire a questo tipo di pressione andiamo a vedere cosa ci dicono gli oracoli infatti voi vivete in una sorta di equilibrio allora qui abbiamo una bella situazione mi fa sorridere un pochino perché voi siete in una fase proprio di equilibrio questo vostro equilibrio crea intorno a voi parecchia invidia però voi siete come in una botte di ferro sapete di essere in una botte di ferro e questa vostra calma questo vostro equilibrio crea sofferenza appunto in queste persone che hanno invidia su di voi perché queste persone sanno che voi non avete questa necessità di dover prendere questa decisione o di dover fare un passo questo appunto crea in essi una forma di invidia un'invidia abbastanza importante questa invidia logicamente porta a una sofferenza però quello che fa soffrire di più è appunto la calma è il fatto che voi siate tranquilli che siate sereni al di là di quello che vedono i vostri occhi cioè la frenesia le pressioni che vi fanno le altre la gente intorno a voi e che sono incastrate anche loro nella vostra stessa storia vi portano a una forma... però voi non è che provate piacere in questa forma di sofferenza che involontariamente voi andate a creare perché appunto è una vostra situazione di equilibrio e di calma che voi sapete che non potete fare altro più di quello che avete fatto e sono gli altri che si devono adeguare perciò questa forma di equilibrio e di calma che voi trasmettete in tutta questa situazione e agli altri che crea questa sofferenza però voi giustamente non potete fare altro abbiamo qui appunto un personaggio una figura che sta proprio rodendo sta proprio rodendo sta proprio facendo di tutto per poter disallineare il vostro equilibrio sta facendo di tutto per cercare di scomporre la vostra piramide di calma e di tranquillità però purtroppo non penso ci riesca è una persona che è una figura che è completamente opposta alla situazione che avete per adesso in ballo è completamente opposta al vostro modo di fare e di conseguenza sta cercando in tutti i modi come dire di mettervi i bastoni in mezzo alle ruote però è anche vero che non è detto che ci riesca perché è un la vostra stabilità il vostro equilibrio la vostra sicurezza diciamo è opposta al suo modo di vedere le cose avete voi raggiunto un equilibrio grazie alla vostra volontà e al controllo della situazione però è anche vero che è opposto a quello che lui prova a quello che questa figura prova nei vostri confronti e nei confronti di questa famosissima decisione è un qualcosa che potrebbe riguardare il lavoro ma potrebbe anche riguardare un segreto potrebbe riguardare un messaggio che ancora non è stato rivelato un qualcosa che voi sapete e che lui sa voi sapete e non volete rivelare ma lui sa questa figura sa che per lui o per lei sarebbe più conveniente che voi parlaste mentre voi non avete nessuna intenzione di parlare ma avete proprio l'intenzione di tenervi per voi tutto quello che sapete questo diciamo lo fa incavolare abbastanza lo fa incavolare abbastanza e purtroppo non ha mezzi per farvi parlare non ha niente contro di voi ad esempio non so per ricattarvi per punsecchiarvi non ha proprio niente questo è motivo di malessere per lui o per lei è motivo di star male è motivo di mettere sempre bocca su tutto in modo che voi sappiate che c'è ancora questa situazione da mettere in atto però voi sapete benissimo che nessuno vi può diciamo nessuno vi può mettere il coltello alla gola per parlare e perciò è una situazione che a questa persona dà parecchio fastidio ci potrebbero essere anzi ci saranno delle notizie in arrivo da parte di familiari se è vostra la famiglia se è sua non lo so se è di qualcun altro questo ancor più per spingervi a parlare per spingervi a dire qualcosa ma non penso ci riusciranno perché appunto qua la calma che voi avete è una calma che avviene proprio dalla circostanza che voi state vivendo e semplicemente quando voi lo terrete opportuno potrete sganciare la bomba potrete fare questo cambiamento anzi addirittura potreste anche andarvene senza dire mai quello che sapete però vi posso dire che ci sarà la pressione di altri componenti di questa famiglia di altri conoscenti di questa figura per spingervi a diciamo rivelare questa forma di segreto che vi portate da tanto tempo e che a lui farebbe comodo uscire che uscisse a largo ecco qui la carta del parlare dei pettegolezzi cioè come se stessero architettando un qualche piano per potervi spingere diciamo a dire la verità ma non vedo proprio che ci riescano perché come dicevo prima voi siete in una botte di ferro bene seconda variante questa è la vostra stessa come sempre io vi aspetto nei commenti per sapere se vi ritrovate nelle mie parole vi invito a iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video vi ringrazio per le numerose iscrizioni e per il supporto che sempre mi date per informazioni sui consulti dove ci sono anche delle novità in procinto di essere elaborate per informazioni sui consulti con delle novità vi invito a iscrivervi a iscrivervi all'indirizzo che trovate giù nelle info io vi ringrazio vi saluto e ci vediamo alla prossima vi ringrazio